salve a tutti e bentornati in un altro video oggi vi mostro una ricettina facile facile per fare lo scrub corpo gli ingredienti necessari sono soltanto due l'olio di cocco che è molto molto idratante e lo zucchero di canna che è molto esfoliante se non disponete dell'olio di cocco potete tranquillamente sostituirlo con l'olio d'oliva l'unica differenza è che comunque poi difficile mandare via l'olio è un pochino forte ma adesso basta chiacchierare e vi lascio al tutorial e questo è tutto spero che questo video vi sia stato utile vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia e non dimenticate di mettere like al video di commentare di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per le notifiche in modo tale da non perdere nessun nuovo video e condividete sui social e soprattutto aggiungetemi su instagram e su google plus i link sono qui sotto e niente con questo è tutto io vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao ciao